Eccoci alla grande finale del torneo di Memory! I due giocatori sono concentratissimi, inizia il 53! Prima gira una carta, poi l'altra... Ma no, è quella sbagliata! Che occasione per la bambina con 212! Ecco che gira con sicurezza altre due carte, incredibile! Il gioco continua, il tipo è alle stelle! E adesso sì, sì! Fa ancora un altro punto, è inarrestabile, una vera bomba! Il numero 53 a terra! Vince la concorrente 212! Con Memory i più piccoli diventano i più grandi! Grazie a tutti!